Dopo due vittorie di fila la Benfap Capo d'Orlando domani alle 18 torna al Palasichelli Archivi per ospitare la Menzana Siena, formazione tra le più attrezzate del torneo. I senesi non sono di certo l'avversario più facile per i paladini per provare ad allungare la striscia positiva, dovendo ancora fare i conti con un reparto lunghi e ridotto ai minimi termini. Ma coach Sodini sottolinea l'importanza di conquistare due punti tra le muramiche contro una delle formazioni che ambiscono alla vittoria del campionato. Siena è una delle squadre più forti del nostro campionato, viene da una sconfitta infrasettimanale l'ultima partita anche abbastanza netta, ma se non avesse avuto una penalizzazione di tre punti sarebbe nel gruppone delle seconde. È una squadra profondissima, sono una squadra aggressiva sulla palla che prende energia dalla propria difesa, amano giocare insieme. La palacanestro di Moretti è una palacanestro per la 2 abbastanza particolare. Non abbiamo ancora battuto una contender, cioè una delle squadre che gioca per vincere il campionato. Abbiamo perso contro Roma, abbiamo perso contro Agrigento, abbiamo perso contro Bergamo. Le squadre che abbiamo incontrato e battuto sono squadre di una fascia leggermente differente. Per quanto Eurobasket fosse ovviamente un'ottima squadra e anche le altre. È il momento di fare un passo avanti, di rendere visibile che il desiderio è sufficiente per giocare una partita come questa con una cattiveria agonistica diversa da quella che ci ha contraddistinto nelle partite contro le squadre forti.